Un gioiello simbolo di fortuna, libertà, amicizia, amore per la natura e rispetto dell'ambiente. E' Dodo, la maison italiana di charme e gioielli di lusso dal 1994 che domenica ha aperto ufficialmente a Catania nel cuore della Vietnea al Civico 98. A lanciare il nuovo store gli imprenditori palermitani Vincenzo Cefalù e la moglie Angela Longo che hanno realizzato una boutique da layout elegante e raffinato grazie al lavoro del gruppo Architectural di Pomellato guidato da Davide Caprioli. Catania era già nella lista d'attesa delle boutique siciliane perché è una città altrettanto importante come Palermo. Quindi Palermo è stato l'esperimento siciliano e poi Catania è stata la natura e l'evoluzione per espandere il marchio nella Sicilia. Non solo gioielli ma anche ecosostenibilità. Dodo da sempre sensibile al rispetto del pianeta e delle persone che lo abitano in occasione del lancio del nuovo charme a forma di albero ha sviluppato la campagna A Tree for A Tree organizzata in collaborazione con TreeDome, la piattaforma online impegnata nella coltivazione di alberi geolocalizzati. Si tratta di un ciondolo albero, un simbolo solido e prezioso che porta con sé un messaggio più forte che mai che si può realizzare con un semplice click facendo all'ambiente il migliore dei regali. Acquistando il nuovo ciondolo infatti gli amici di Dodo riceveranno un codice personale che consentirà di piantare e veder crescere a distanza un vero albero da frutto contribuendo così alla creazione e alla crescita della Dodo Forest ad Haiti e al sostegno per lo sviluppo delle comunità di agricoltori locali. Una collezione ispirata alla natura con protagonista delle ciliegie che hanno consentito di organizzare questa festa di inaugurazione come un cherry party per cui abbiamo confezioni di ciliegie per tutti i nostri ospiti. Più forte che mai è il significato racchiuso nel ciondolo albero con cui l'azienda di lusso ricorda e rinnova ancora una volta il suo impegno verso l'ambiente facendosi portavoce di temi legati alla sostenibilità attraverso il pieno coinvolgimento nella campagna social A3 for A3 a supporto delle iniziative di TreeDome. Realizzato in oro responsabile, nove carati e finemente impreziosito con 12 zaffiri rosa di diverse tonalità il nuovo pendente non rappresenta solo lo straordinario talento di Dodo nel creare gioielli artigianali ma anche il suo ruolo costante come ambasciatore di progetti legati alla sostenibilità presente in Europa, America e Asia con una rete di 50 boutique e negozi in franchising e oltre 500 rivenditori autorizzati Dodo rappresenterà per Catania un punto di riferimento fondamentale con interessanti ricadute economiche sul territorio. Per noi è un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione assistere all'apertura nel centro storico della nostra città nella splendida Vietanea con il nostro barocco che fa da opportuna cornice per un'azienda di valenza internazionale un'azienda italiana di cui siamo assolutamente orgogliosi e siamo davvero felici che abbia scelto Catania per immaginare un percorso che sono sicuro regalerà all'azienda, agli imprenditori e anche alla nostra città eccezionali risultati.